ma non si deve nemmeno ah ecco qual è il problema ok grazie a tutti ok 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 contratto caccia qui ok 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 eh no no io non ho i soldi zio c'ho però la safe contro no ma ce la faccio ce la faccio ma vi ho raggiunto vi ho raggiunto dai gas in arrivo c'è una nuova zona sicura chi ha rotto a fernato colpi di piccolo calibro qui contratto marcato no 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 UAV nemico attivo gatti in avvicinamento attenzione è stato rilevato un hard drive nemico nell'area recuperalo e invia tutti i dati ucile d'assalto qui chi spara una parte del tuo team è fuori dalla zona sicura UAV nemico in zona arriviamo possibili minacce qui contatto con un nemico prendi delle munizioni in movimento movimento in quest'area vado qui in movimento attività nemica arriva l'attacco con mortaio alleato annullare In movimenta. Un tuo compagno è tutto il nostro avanti. Non è in campo. Sono freddo con la mea. Cazzo. Mannaggia. Eh no. Solo è te. Soldati, siete in quattro nella mia arena. Gli ultimi due superstiti se ne andranno. È ora di uccidere! Lancia una glira! Una granata fumaggina! Traccato. Mi ha smesso di vivere. Non resta nessuno da affrontare. Traiste in attesa per l'inchiere dei soldi. Mi ha smesso di vivere. Non è. Un nemico da là. Un nemico in volo. Il gas si avvicina. Nuova zona sicura localizzata. Mitragliatrice leggera marcata. Dove? Attenzione. Area pericolosa. Occhio. Forse c'è un nemico qui. Movimenti. Lancio di equipaggiamento in arrivo. Sanca di corazze. Qui. Dov'è? C'è un bombardamento. Dov'è? Mitragliatrice leggera marcata. Il gas è sempre più vicino. Qui c'è attacco. Prendi dell'Obs. Contratto ricognizione marcato. Dirigiti alla zona sicura. Sì. Un piedal d'ambiente. Un piedal d'amore. Un piedal d'amore. Un piedal d'amore. Il gas è più vicino. Un piedal d'amore. Un piedal d'amore. Contratto fallito. Obiettivo perso. Contratto fallito. Contratto fallito. Contratto fallito. Contratto fallito. Contratto fallito. Sì, anch'io ce l'attacco da... Sì, anch'io ce l'attacco... We're out guys, we're out... Supporto aereo, bersaglio marcato! Vieni safe Che faccio stare? Sì... 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 È scappato... Vai, l'olio è tutto tuo! In movimento! Gas in avvicinamento, nuova zona sicura! Nemico in zona! Saldi attivi! Prezi delle staccumili a questo ridotti! Costile marcato! Ancora 25, continua così Vai Ups, qua, ups, corazza Corazza è qui Fatto Ho la maschera, ho la maschera, ho la maschera Non morirai, non oggi almeno Arigato, non temi, ci sono io Sto bene Affrettati verso la zona sicura No, l'ho fatto io, l'ho fatto io UAV nemico in zona UAV nemico attivo Eh, io l'ho data up su quella che avevo Entriamo qui? Vado qui Saldi conclusi, prezzi in aggiornamento Corazza è qui Corazza è qui Dentro Nemico nel puto saccheggiato Ci hanno preceduti No, il giro di la lolly Pazzo sì In avvicinamento Raggiungere la nuova zona sicura Io sto dentro Fatto 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 Il gas è sempre più vicino Raggiungi la zona sicura Occhio adesso che entriamo ci stanno tutti Soldato nemico in arrivo Venite Venite, venite raga Venite nell'ascensore Qua da me Vado qui Va vai Saliamo sopra Veloce Prima che chiuderà Il gas si avvicina Nuova zona sicura localizzata Occhio Sì sì Siamo qua Siamo qua Siamo qua Siamo qua Siamo vicini raga Che non so quanti di loro Saranno in squadra Avete la maschera voi? Il tuo team è nella zona sicura La dovete comprare Basta dire dove siamo Ci sono italiani raga Di cazzo è che gioco con laser? Calma, calma, calma Tutti vicino Entriamo? Come dietro? Come dietro? Mi servono cure Qui vedo movimento Adesso sei tra gli ultimi cinque Ottimo lavoro Gas in arrivo C'è una nuova zona sicura Gas in movimento Diriggiti alla zona sicura Audio 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 Movimento in quest'area In movimento E' una nuova zona Mi rimani soltanto tu Finisci il lavoro Gas in avvicinamento no, 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 no audio non ci sono altri bersagli yes e sono due e sono due guys che bestia e vai non ci sono due veramente si ha quattro bro top non aveva la maschera mi sa eh io l'ho comprata l'ho comprata all'ultimo shop devi dire erano insieme quello che ho ucciso sotto con l'altro che mi saliva sentivo l'ho lì che te ci fa prendi il drone bomba prendi il drone bomba eh ma col drone bomba raga io ero dopo muori da che sei fuori safe capito non lo puoi usare lo devi usare subito cioè se lo usi e poi guardi il drone non vai di te e vai fuori safe tu muori ah il drone è nelle scale tu dici mi viene sempre a culo però e infatti stava ressando quando lo ci